Mezzi alternativi per camper? Ma cosa sono? E come mai è così importante averne uno? Quale sarà il mezzo alternativo giusto per me? Daniela, come mai hai cambiato tutte le tipologie di mezzi alternativi per camper durante la tua vita in camper, durante 5 anni in camper? Aspetta, muovi e spiego tutto dopo la presentazione. Intanto approfittatene per iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Attivare la campanellina in modo da ricevere una notifica ogni volta che uscirò un nuovo video. E mettere un bel mi piace, lasciarmi un cuoricino per dirmi grazie Daniela di tutto quello che fai. Hai lasciato il cuoricino? E a tra poco! Ciao, io sono Daniela Di Girolamo e lui è Spritz. Dal 2018 viviamo e viaggiamo in camper. Sono una camper life coach e grazie alle mie consulenze private ogni anno aiuto centinaia di persone a trovare le soluzioni giuste per le loro esigenze. Ah, sono anche autrice del libro bestseller La felicità è una conquista. Se anche tu vuoi viaggiare o vivere in camper o semplicemente essere felice, sei nel posto giusto. Iscriviti al canale e attiva la campanellina. Daniela, ma che sono sti mezzi alternativi per camper? Sono dei mezzi che possiamo usare appunto in alternativa quando lasciamo il camper parcheggiato da qualche parte. E Daniela, perché non possiamo usare sempre il camper? Sì, certo. E allora perché è così importante averne uno? Perché vi ci voglio proprio vedere infilarvi in un borgo o in un centro città con un bel 7,40 m. O andare a fare la spesa nella botteguccia di paese col vostro bel 4x4. O durante un'emergenza dover andare in farmacia o al pronto soccorso con la vostra roulotte al seguito. Ma soprattutto perché alcuni mezzi alternativi, come vedremo fra poco, sono anche molto divertenti. E ci permettono anche di fare un po' di attività fisica. Che male non fa! Daniela, e come faccio a scegliere allora il mezzo alternativo perfetto per le mie esigenze? Per questo vi ricordo che sono disponibile per consulenze private personalizzate per studiare appunto ogni caso specifico. Vi lascio il link in descrizione per prenotare un colloquio gratuito di 15 minuti e senza impegno. Daniela, come mai hai cambiato tutti i mezzi alternativi possibili e immaginabili in 5 anni di vita in camper? Perché siccome non c'era Daniela De Girolamo che faceva le consulenze private personalizzate, li ho dovuti testare tutti sulla mia pelle. Infatti ho avuto la bici normale, la bici elettrica, il monopattino elettrico, lo scooter 50 dentro al camper e fuori dal camper, lo scooter 150 e il monoruota. C'è giusto un po' di vento! Adesso li vedremo tutti nel dettaglio, correlativi pro e contro, e li divideremo per praticità in mezzi elettrici e non elettrici. Lo sapete è vero che con la nostra tessera sconti potrete acquistare mezzi alternativi per camper a prezzi scontatissimi? E anche nella tessera sconti vi lascio il link in descrizione. Mezzi alternativi non elettrici. No, forse ero giusto. Mezzi alternativi non elettrici. La bicicletta, che sia essa una mountain bike o una city bike, i pro e contro saranno gli stessi. Ovviamente i pro sono infiniti. Economica, da acquistare e da mantenere. Leggera da trasportare. Abbastanza facile da portare in camper, che sia in un gavone, in un garage, o anche solo in un portabici. Se non ha molto valore, non dovremmo stare con l'ansia che ce la rubino. Si può usare anche per fare attività fisica. Insomma, sappiamo tutti quali sono i pro di una bici normale. I contro. Ma quali sono i contro della bici normale? Beh, sicuramente per una sola persona. Non possiamo andare in autostrada. E a meno che non siamo molto, molto allenati, l'autonomia credo sia abbastanza limitata. L'ho detto il... Tra i mezzi alternativi non elettrici c'è lui. Lo scooter. Quali sono i pro di avere uno scooter in camper? Beh, sicuramente con uno scooter puoi andare praticamente ovunque. Tenendo conto però della cilindrata. Do per scontato che sappiate che sotto il 150 non si può andare in autostrada. Si può andare in due, si può andare veloce. E l'autonomia sarà praticamente infinita. In quanto basterà fare il pieno di carburante. Ma adesso vediamo i contro. Lo scooter è pesante. Quindi come se non bastassero già i chili del nostro camper, andiamo a portarci dietro altri 100-150 chili. Minimo. Poi ci saranno tutti i costi di gestione, come assicurazione, bollo, pneumatici, eccetera, eccetera, eccetera. Ma soprattutto, dove lo mettiamo questo scooter? Abbiamo due opzioni, entrambe con pro e contro. Laddove avessimo un camper dotato di garage abbastanza alto, potremmo tenere lo scooter all'interno del garage, con una serie di contro che dobbiamo valutare. Prima tra tutte, se mettiamo lo scooter all'interno del garage del nostro camper, Dove la mettiamo la sedia della suocera? E l'asdraio della moglie? E le mie canne da pesca? E la mia attrezzatura sportiva? Eh già! Tenere lo scooter all'interno del garage vuol dire non solo sacrificare un sacco dello spazio che appunto è presente nel garage, ma anche che ogni volta che dobbiamo caricare e scaricare questo benedetto scooter, qualcosa la dobbiamo tirar via per forza. Sì, anche sotto il diluvio. E poi ci avete pensato che lo scooter dentro il garage, considerato che quasi sempre sopra c'è un letto, potrebbe puzzare un po' di benzina. Eh vabbè Daniela, allora lo metto fuori nel portamoto. Sì, ma anche qua ci sono dei contro. E quali sono Daniela? Beh, intanto se non avete già un portamoto installato sul camper, preparatevi a spendere un po' di soldini. Secondo, non su tutti i camper è possibile montare un portamoto. Terzo, andremo ad aggiungere ulteriore peso. E cosa da non sottovalutare affatto, andremo ad allungare la lunghezza del mezzo, che su mezzi già abbastanza lunghi di suo, comporta aumentare lo sbalzo posteriore di almeno 50-60 centimetri. Eh, Daniela, allora lo rimetto dentro. Fai un po' come... Oh oh, mi pare. E ultimo tra tutti, che forse è la cosa che più di tutte mi dà fastidio, forse perché non ho un fidanzato dedicato a questo, è caricare e scaricare sto benedetto scooter dal camper. Ogni volta non c'ho mai voglia e faccio di tutto pur di non farlo. Quindi mi porto questo scooter a spasso, praticamente. E allora, Daniela, scusa, se la bici e no perché è questo, e lo scooter no perché è quell'altro, e allora come facciamo? Aspetta, ci sono tutti una serie di mezzi alternativi elettrici di cui parliamo adesso. In generale i pro e i contro dei mezzi alternativi, a prescindere da quello che andrete a scegliere, sono sempre gli stessi. E a parte forse l'unico contro, anzi forse due, ovvero il costo elevato di un mezzo alternativo rispetto a una bici normale, un monopattino elettrico rispetto a una city bike, o uno scooter elettrico rispetto a uno scooter normale, c'è anche, ahimè, il problema dell'autonomia energetica. Eh sì, non avendo autonomia energetica infinita, come abbiamo detto nel video sui pro e contro, potremmo rischiare di rimanere senza batteria e di dover capire come ricaricare questi benedetti mezzi. Insomma, a differenza di una mountain bike o di uno scooter, non avremo autonomia infinita. Ma i vantaggi sono tantissimi! Praticamente racchiudono un po' tutti i pro della mountain bike e tutti i pro dello scooter. Infatti, possono essere abbastanza leggeri, facili da trasportare e per alcuni si può dire che includono anche un po' di attività fisica. Non hanno costi di gestione o almeno non come quelli di uno scooter. Ci possiamo andare un po' praticamente ovunque e soprattutto non ci dobbiamo fare il... Oh oh! ...di cui parlavamo prima. E adesso vediamo brevemente nel dettaglio i pro e i contro dei singoli mezzi alternativi elettrici o almeno di quelli che ho testato io. La bici elettrica è sicuramente la più ingombrante e pesante di tutte ma forse anche la più comoda da guidare e quella che in realtà ci dà un po' più di autonomia energetica. E poi ci sono monopattino e monoruota che più o meno potremmo considerarli simili con un paio di differenze che adesso vedremo. Entrambi sono più piccoli, più facili da riporre all'interno del camper anche un po' più leggeri ma forse il vantaggio che più di tutti ritrovo a differenza della bici elettrica che quando andiamo all'interno di un posto come un supermercato, un museo, un locale siamo costretti a lasciare fuori alle intemperie col rischio che ce la freghino eccetera eccetera il monopattino e il monoruota li potremmo portare dentro con noi anche a bordo di autobus metro treni taxi e le macchine di amici il monoruota a differenza del monopattino ha solo un paio di vantaggi e svantaggi in più sicuramente è un po' più costoso da acquistare un po' più difficile da imparare ma a differenza del monopattino che soffre abbastanza le salite e spesso non ha tanta autonomia di chilometri ed è anche abbastanza lentuccio ci sono modelli di monoruota che arrivano anche a oltre 50 km orari hanno autonomie infinite anche oltre i 100 km e non temono le salite ovviamente ho detto solo i pro e contro principali di tutti i mezzi alternativi altrimenti non basterebbe un video di un'ora e mezza e non mi sono addentrata in cosa dice la legge in cosa è obbligatorio fare dove è obbligatorio andare perché deduco che anche vivendo a casa sappiate un po' come funzionano i mezzi alternativi l'unica cosa che mi sento di dirvi e che qualunque mezzo alternativo usiate ricordatevi il casco e possibilmente anche le protezioni se volete che mi faccia venire io il mal di testa di aiutarvi a capire qual è il mezzo alternativo più adatto alle vostre esigenze vi ho detto già che potete fissare un colloquio gratuito con me di 15 minuti da me e da Spritz per oggi è tutto alla prossima ciao 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 ciao